Benvenuti ragazzi o bentornati sul mio canale, sono Divix, dopo aver fatto il video di presentazione di Sommer Oggi ha firmato il contratto e fatto le visite mediche, è stato già presentato sui canali social La foto di Rito, l'intervista davanti alla sala trofei Felice di essere con noi, carico, motivato, un giocatore di personalità, ne ho già parlato Però quello che ha sconvolto tanti di voi è il fatto che l'Inter si sia lasciata scappare Trubin Per una cifra, passatemi il termine, bassa perché il Benfica potrà acquisire le prestazioni di Trubin Il portiere che aveva seguito l'Inter per 10 milioni più 1 di bonus e il 40% della futura rivendita Vi spiego perché l'Inter ha rinunciato a fare questo tipo di operazione Parliamo ancora dell'attacco, parliamo del braccio di destra perché all'Inter mancano ancora due giocatori Sempre che non si riesca a vendere qualcuno E poi parliamo proprio delle cessioni perché tutti hanno messo in prima pagina le due clamorose cessioni dell'Inter C'è quella di Brozovic e quella di Onana Però all'Inter c'è un grosso, grosso problema di uscite Tutti gli esuberi bloccati che attualmente stanno limitando anche le operazioni in entrata E soprattutto le scelte nelle operazioni in entrata Scrivetevi qua sotto cosa ne pensate Ma prima, come sempre, guardate il video Buona visione! Partiamo dalla porta Ho fatto un sondaggio oggi proprio su YouTube Vi ho chiesto su chi dovrebbe puntare l'Inter Lo sapevo, ero certo che avrebbe vinto l'opzione Stankovic come secondo portiere Perché è un ragazzo che è piaciuto molto a tanti di voi in queste prime amichevoli Piace anche a me Però devo dirvi che io non sono d'accordo con voi Vi spiego perché non sono d'accordo con voi Il secondo portiere di una grande squadra Ma in generale i secondi portieri giocano molto, molto poco Io credo che questi ragazzi per diventare dei campioni Abbiano proprio la necessità di fare tante partite Di sbagliare Di imparare a sbagliare Superare gli errori Che è la cosa più difficile per i portieri E quindi Stankovic deve fare un'esperienza in Serie A Vedremo se ci sarà uno scambio di prestiti con Audero Che verrebbe all'Inter a fare il secondo portiere E daremo così spazio eventualmente a Stankovic Per giocare non in Serie A, in Serie B Ma comunque sia giocare partite importanti di livello E cominciare a prendere confidenza con i campi Lo ha già fatto l'anno scorso Adesso è il momento di farlo In Italia è dimostrare che un buon portiere Rimane proprietabile dell'Inter E quindi siamo tranquilli eventualmente per il futuro Audero è un buon secondo portiere Non mi sento sinceramente di necessitare di un secondo portiere forte Si è parlato di Bento È possibile che l'Inter lo tratterà l'anno prossimo Io non parlo di operazioni fra un anno Perché fra un anno non so neanche chi sarà il presidente Chi sarà l'allenatore Chi sarà questo, chi sarà quest'altro Magari Sommer farà un'annata clamorosa ancora più di un anno E quindi non guarderemo neanche un altro portiere Quindi è inutile parlare di quello che succederà l'anno prossimo Parliamo invece di quello che succederà quest'anno Sistemata la porta con Sommer E molto vicino a Audero Mancano ancora due tasselli importanti Il primo obbligatorio E cioè l'attaccante Il secondo invece è questo famoso braccietto di destra Perché o eventualmente braccietto di sinistra Perché attenzione Bisse può giocare sia a destra che a sinistra Lo ha già dimostrato L'Inter sta tentando di prendere uno a destra Vedremo si fanno tanti nomi Ci sono tanti nomi di ragazzi in uscita O comunque sia in scadenza Si parla di Cialoba che a me piacerebbe tantissimo Vediamo Vediamo cosa succederà Vediamo se avanzerà del budget Invece io non sono così convinto Che l'Inter riuscirà a prendere Balogun Non sono negativo Cerco di spiegarvi perché Con quello che sta succedendo Per gli attaccanti I movimenti che ci saranno nei prossimi giorni L'Inter ha veramente poco tempo per chiudere l'operazione E non doversi trovare un'altra volta A dover competere con un'altra asta Io sono d'accordo Sul fatto che Non spenderei mai 50 milioni per Balogun Che ha fatto un anno bene Sì in Francia Ma ancora tutto da dimostrare Sono d'accordo Che ci siano delle cifre che non vanno superate E quindi l'Inter non ha voluto Mettersi in corsa Con l'Atalanta Per prendere Scamacca Perché far partire un'asta Al rilancio Non aveva senso Per un giocatore ottimo Ma che non sarebbe stato il titolare E come vi ho detto L'Inter dovrebbe Proverà ad avanzare Un piccolo budget Anche per la difesa Balogun è un'opzione Ma non so sinceramente Quanto l'Arsenal Si è disposta a scendere Sappiamo che ha già rifiutato Un'offerta alla Francia A parte del Monaco Se non voglio errato Non so di quanto sia stata l'offerta Però è difficilissimo Prenderlo le cifre che vuole l'Inter Cioè 30 milioni più bonus Più eventuale percentuale Ma piccola Di 10 milioni Dipenderà molto Da quello che faremo Nei prossimi giorni In uscita Perché l'Inter Ha tanti giocatori Che potrebbero avere mercato Sono degli esumeri Faccio un nome Ad esempio Sensi Le uscite stanno bloccando Ovviamente il mercato Sembra una stupidata Ma prendere 5 milioni 6 milioni 7 milioni Guardate cosa sta facendo il Milan Guardate cosa sta facendo la Juve Che sta vendendo Zaccaria Per 18 milioni La Fiorentina Ha venduto Cabral Per 25 milioni 30 milioni Non ho capito esattamente Quanto è la cifra Quelle sono le operazioni Che ti danno veramente Ossigeno e cassa Per poi lavorare In questo momento L'Inter fa fatica A vendere i suoi esuberi Hanno fatto offerte Dalla rabbia saudita Per tutti i giocatori del mondo Purtroppo Correa Non lo vuole nessuno E quindi l'Inter è blindata Bloccata Devo dire che comunque Ha speso tanti soldi E mi spiace Che molti stiano criticando Dicendo che l'Inter Non sta spendendo In realtà l'Inter ha speso Ha speso tanti soldi Perché se voi fate il conto Di tutti i soldi Che sono stati spesi Quelli Che vorrebbero offrire Per Balogun Cioè oltre 30 milioni L'Inter è vicino Ai 100 milioni di euro Spesi sul mercato Che non sono proprio Due lire Quindi per fare un punto La prima domanda A cui rispondo È perché l'Inter Ha mollato Trubin Adesso vi spiego perché Cercate di non Innervosirvi Perché non è che io sia Dalla parte di questa situazione O dalla parte della società L'Inter ha capito Che dalle grosse cessioni Può finanzare il mercato E costruire la squadra L'ha capito Negli ultimi 2-3 anni Fare un'operazione A 10 milioni Per cui la rivendita L'eventuale rivendita Sarebbe Col 40% A favore Del Benfica È un'operazione Che funzionerebbe All'Inter Soltanto se Trubin Diventasse Il futuro portiere Per i prossimi 10 anni Al 100% Se vanno a prendere Un ragazzo di 21 anni È perché sanno Che potenzialmente Magari fra 2-3-4 anni Potrebbe essere rivenduto A tanto Esattamente come è successo Per Onana Io Non credo che l'Inter Abbia visto Un grande vantaggio Nel prendere un portiere A questa cifra Con una percentuale Così grossa Da dare poi Eventualmente Allo Shatter Sulla futura rivendita Quindi Sarebbe un'operazione Che avrebbe senso Solo se si avesse La certezza matematica Che questo ragazzo Diventasse il nostro futuro portiere Per i prossimi 10 anni 15 anni In altra maniera Sinceramente Sappiamo già Che non potremmo Guadagnarci tanti soldi Ricordatevi Che Onana È il terzo portiere Più pagato della storia E non è scontato Che si vendano i portiere Quella cifra Pertanto L'Inter ha deciso Di mollare il colpo Se riusciranno Prossimo Eventualmente A buttarsi su Bento E portarlo a casa Con una cifra Intorno ai 10 milioni Ma tenersi Poi Tutto La percentuale O La possibilità Di rivendere il cartellino Sarebbe diverso Perché vi faccio Questo discorso Perché sappiamo La situazione Nostra economica Attuale Io non vengo qua A raccontarvi favole L'Inter ha bisogno Sempre di soldi Ha bisogno Di autofinanziarsi Il mercato Non l'ho detto io Ma l'ha detto Marotta In più di un'occasione L'ha detto anche Ausilio E quindi non vengo qua A raccontarvi favole Quello che vi ho detto All'inizio del mercato È che l'Inter quest'anno Però avrebbe rinvestito I soldi delle cessioni L'Inter ha incassato Circa 100 milioni totali E attualmente Ha in programma Di investirne altri 100 Vedremo Chi sarà L'attaccante E occhio Occhio Perché ho sentito Già qualcuno Che ne ha parlato Io so Che Marotta Ma soprattutto Ausilio Tirano sempre fuori Dei nomi a sorpresa È successo più volte Esattamente quest'anno Come Quadrado Come Bisse Che non si aspettava nessuno Quindi questi nomi Che girano sempre Sui giornali Io non li do Mai Come uniche alternative Certe Sono sicuro Non al 100% Ma al 200% Che Marotta e Ausilio Stanno lavorando Anche all'opzione C Cioè l'opzione A Era Ballo L'opzione B Era Scamacca Ma c'è sicuramente Anche l'opzione C Ovviamente Eliminato Lukaku Sto parlando del post E sono sicuro Che nessuno di noi Ancora sa il nome Aspettiamo Vediamo Sono contento Però che la squadra Attualmente Diciamo che sia Completa al 90% C'è una struttura Vi darò i giudizi Però a fine mercato Perché gli ultimi due tasselli Che sembrano delle stupidate Secondo me Sono quelli che Sposteranno Veramente gli equilibri Da una parte O dall'altra Scrivetevi qua sotto Cosa ne pensate E noi ci vediamo Come sempre al prossimo video Se vi piace l'Inter Iscrivetevi Ciao ragazzi